Tanti bambini mi hanno chiesto Ma tu hai una casa? Perché pensano che la polizia me l'ha rubata Perché? Perché, visto che non faccio scuola Ti rubano la casa? Ma voi non andate a scuola? No! E come sapete leggere e scrivere? Ah si, l'avete imparato così Allora siete proprio intelligenti Ti viene rimproverato da genitore di non educarlo Mi hanno anche detto Dovresti mandarlo a scuola così lo rimettono in riga Vabbè La nonna vuole che vada alla scuola normale Tu gli hai detto che sei bene e che sei felice? Lui no Si, lei ha detto che non imparo niente Perché io non ci voglio andare Quindi siamo obbligati ad andare Quando torno sono ancora piena di arrabbiare C'è dentro ancora la scuola C'è dentro E i tuoi dubiti derivano dal fatto che tu sei uno scolarizzato Quindi sei fortunato sostanzialmente Non dimentichiamoci che la pedagogia delle nostre scuole È una pedagogia che produce disciplinamento Una delle cose che più di tutte fa comodo al nostro sistema di potere Cioè i ragazzini imparano ad obbedire, ad essere dipendenti Vedi l'autoritario come una parte della vita Perché devi essere chiesto cosa fare Perché non c'è nessun altro sistema Devi sapere questo, devi sapere questo Devi essere mesurato Ma è una vita completamente diversa Allora la democrazia e la politica definiscono Che la vita di bambino È una situazione neurofisiologiche di immaturità E quindi continuerai ad inallenare errori fino a che ci arriverà Come fai a dare un voto sul suo sbaglio? E se continui a dire Ok, let's Gaia, play, be free Maybe a 12 anni She's just playing and be free And? Would that be a problem? Maybe, because... But you don't know Yeah, I don't know C'è questo il problema C'è questo il problema C'è che nessuno ne sape dove si conduisce Non c'è nessuno di questo Non c'è nessuno di questo Non c'è nessuno di questo I migliori della società Per vedere se danno esiti migliori E probabilmente li danno Probabilmente li danno Però ce la fate a cambiare tutta la società nel tempo che le cresce